La propaganda è l'arma più usata in questa guerra, da entrambe le parti, ma il rischio e che la vittima principale sia davvero la verità. Ne parliamo con Caterina Sadilova, ex membro del Consiglio di Sicurezza Ucraino, insieme con Alba Parietti e poi ancora il direttore Umberto Brindani, Gianfranco Vestuto, direttore di Russia News, un quotidiano online letto soprattutto dai russi che vivono in Italia, ancora in collegamento a Roberto Poletti e sempre in collegamento Mario Adinolfi, popolo della famiglia, Mario so che sei collegato da Praga. Se vogliamo parlare di informazione è molto molto difficile fare un delimitare con una linea di verità ed una di... Volevo sentire Mario Adinolfi, prima però di sentire il parere di Mario Adinolfi che tra l'altro è collegato da Praga, che insomma è una città che dice molto, ricordiamo la primavera di Praga che fu in qualche modo soppressa nell'agosto del 68 dai carri armati. Mario Adinolfi, la propaganda sì, però poi viene rilanciata questa propaganda, queste fake news, poi vengono rilanciate dai soliti ambienti che poi vengono ricondotti al mondo Novaxi, Boccaloni, se le bevano e nascono insomma tutti questi movimenti che negano in qualche modo la realtà e la verità. Hai creduto tu alla fake di Mario Pol dell'ospedale? Io sono diciamo così molto molto distante dal Boccalone, ecco diciamo, so che esiste la comunicazione di guerra e che è sempre 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 propaganda. Quando qui a Praga nel 68 arrivarono i carri armati sovietici un quotidiano italiano che si chiamava L'Unità, era il quotidiano del Partito Comunista, parlò di liberatori. quando qualche anno fa ci volemmo tutti convincere che Saddam Hussein deteneva le armi di distruzione di massa, ci abbiamo tutti creduto e ci abbiamo costruito i presupposti di una guerra. La comunicazione di guerra è sempre propaganda. La tragedia è che l'informazione intera si sta avvelenando attorno a questo meccanismo. Non posso dimenticare un Presidente del Consiglio come Mario Monti che non più di qualche mese fa ci raccontava che ormai l'informazione deve essere somministrata al cittadino. Però Mario qui stiamo parlando, stiamo guardando, non ti voglio interrompere, delle immagini che insomma, come si suol dire, parlano da sole. C'è un bombardamento su un ospedale con delle vittime civili. Purtroppo non parlano da sole, purtroppo le immagini sono immagini. Però Mario è un ospedale, è un ospedale pediatrico, ci sono state vittime civili, di che stiamo parlando? Di che propaganda? Questa è la rappresentazione di una cosa che è avvenuta veramente. che è possibile che quell'ospedale fosse usato dal battaglione Azov? No, è stato smentito anche questo, Mario, è stato smentito anche questo. Lo dico solo per dare un punto di vista. Quale interesse può avere la Russia a colpire donne e bambini ucraini? A queste immagini? A chi mocciano? A chi fanno male? Mario, posso chiedere il parere di Cristina, giornalista ucraina? Sto facendo del male con queste immagini. Allora, le immagini, quindi c'è una differenza tra la propaganda e la verità. È possibile capire qual è la verità. E io sono stufo di questi, compreso il signor Vestuto, compreso Adinolfi, che continuano a stare in mezzo. Ma perché state in mezzo? Chi ha detto che sia in mezzo? No, lui no, Vestuto credo che non sia in mezzo, Vestuto credo che sia da una parte. Peggio, scusate. Eh beh, peggio punti di vista. Mario, ritorniamo però sul tema propaganda. Le immagini le abbiamo viste, Brindani dice una cosa giustissima, si può fare tanta propaganda, però questa è la prima guerra, diciamo, che ci coinvolge direttamente, in cui la tecnologia rende il re nudo, cioè le immagini sono quelle, si vedono le voglie a manipolare. No, Brindani non dice una cosa giustissima. Brindani si vuole mettere sulla curva e fare il tifo. E fare il tifo in questo momento non serve a niente. È completamente inutile. Serve a fare la bella faccia in televisione, ma è completamente inutile. Noi dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo. Cosa vogliamo? Vogliamo la pace o vogliamo la guerra? A quelli che dicono vogliamo la pace dicono voglio essere lasciato liberato. E non sono un fascista. Voglio essere lasciato liberato. Non sono un fascista. Sono uno che... Ragazzi, proprio dove fa parlare. Proprio dove fa parlare. Se le 10 contro 1 mi fate parlare, per favore. Dai, Mario, vai. Allora, questo meccanismo secondo cui il vostro fact-checking è chiedere all'oste se il vino è buono, lo capite da soli. È un po' insostenibile. Ma qual è l'oste? Scusami, Mario. Siccome questa cosa riguarda noi anche dell'informazione, l'oste chi è? Per fortuna in Ucraina ci sono giornalisti di tutto il mondo. Oggi uno ha perso la vita ed era americano. Qual è l'oste? Saltiamo questo meccanismo. Vengo alla tua domanda di fondo. I partigiani dovevano abbandonare le armi e l'arrendersi a Hitler? Giuseppe, se Putin è Hitler, il fucile lo vado a prendere io. Mi metto per strada e vado a fare il battagliero anch'io. Vada. Ma Putin non è Hitler. No. Questo è il punto. Ma chi lo decide? Quali sono i parametri per cui tu dici che i partigiani dovevano arrendersi... No, no, però Mario, perché i partigiani non dovevano arrendersi e gli ucraini sì? O questa è una guerra regionale che non ci coinvolge, che dura dal 2014, che non ci ha mai coinvolto e adesso diventa un problema perché ha questa dimensione mediatica. Ma se tu mi porti l'analisi su un altro piano, dicendo che questa è una guerra tra il male e il bene, mi devi dimostrare che quello è il male. Mario, oggi le bombe sono cadute a 25 km dalla Polonia, a 25 km dall'Europa, a 25 km da noi. Se questa guerra non ci deve riguardare, io penso che abbiamo dei problemi grossi. Ma certo che non ci riguarda, ma non ci riguarda come fosse Hitler alle porte. Ah no? Abbiamo avuto la guerra in Kosovo, abbiamo avuto la guerra in Slovenia, in Croatia, l'abbiamo avuto alle porte di casa, ma mica abbiamo sempre detto andiamo a fare la guerra noi. Perché rischiamo la terza guerra mondiale. E perché Putin e Hitler, questa è la mia domanda. Sì, Putin e Hitler. Sì, la risposta è... Sì, Putin e Hitler prendi il fucile e vai in montagna. Per me no. No, per me c'è una guerra regionale con motivazioni profonde che hanno a che fare con le loro questioni. Regionale con 2 milioni e mezzo di profughi. Un popolo che sta facendo una guerra civile rispetto alla quale noi non centriamo nulla. Ma come non centriamo nulla, Mario? Come fai a dire che non centriamo nulla? Come fai a dire che non centriamo nulla nel momento in cui tutto è comunque globalizzazione? Come fai a dire che non centriamo nulla? Per costruire le condizioni della pace. Allora, Mario, facciamo così. Continuiamo a parlare. Vi voglio introdurre come spesso facciamo nella nostra trasmissione. Siamo oggi agli tifo per la guerra. Ermatimario. L'ignoranza è terreno fertile per instillare concetti di questo tipo. E quindi si rivolge alle persone ignoranti. Come alle persone ignoranti si rivolge la propaganda che abbiamo ascoltato prima. Adinolfi viene qui e dice di non essere un boccalore. Di fronte alla prova provata che è stato colpito, un ospedale pediatrico, non fa marcia indietro, ma non mi preoccupa Adinolfi. Mi preoccupano quelle persone che, come Adinolfi, all'interno del nostro Parlamento, il Parlamento della Repubblica Italiana, la pensano allo stesso modo. Il nostro paese è pieno di personaggi in cerca d'autore che approfittano della prima disgrazia per mettersi in luce. È stato così. E leggo. Mario, mi dai una risposta. Ti fermo, Roberto. Mi dai una risposta flash, però davvero flash. 20 secondi, davvero 20, Mario. Io invito a leggere davvero il sermone di Kirill. È un sermone di intensa intelligenza e sono convinto che solo Kirill e Papa Francesco insieme possano costruire le condizioni per la pace e curatura in quel territorio. Vediamo, magari, vedremo nei prossimi giorni, nel frattempo, per restare in questo perimetro, pare, qualcuno dice, che persino la Madonna avesse previsto questa guerra in Ucraina. Questa è la guerra, queste sono le bombe cadute oggi a ovest dell'Ucraina. C'è chi aveva probabilmente previsto tutto. Chi? La Madonna. Voglio proporvi un altro numero, come sempre facciamo nella zona bianca. Il numero questa volta è tre, perché attorno ai tre segreti di Fatima ruotano ancora dubbi e misteri. Che qualcuno la Madonna avrebbe predetto proprio questa guerra in Ucraina. Ma davvero allora la Madonna apparsa Fatima aveva previsto anche questa guerra in Ucraina? Ne parliamo con Antonella Boralevi, che è in studio insieme con l'attrice Sara Maestri, e con Alessandro Cecchipone, grazie per essere con noi nella zona bianca, in collegamento da Siracusa Padre Ari e Levi di Gualdo, sacerdote e teologo, sempre collegato, è rimasto con noi Mario Adinolfi, collegato da Praga. E allora Mario, vengo subito da te. Tu ci credi a questa profezia? Tu credi davvero che la Madonna di Fatima abbia predetto, abbia previsto questa guerra in Ucraina? Tutti i cattolici credono all'apparizione Mariana a Fatima, è un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa. Tra l'altro ci fu uno straordinario miracolo della danza del sole davanti a 50.000 persone il 13 ottobre del 1917. Il deposito mariano è chiaro, ed è il 1917, ricordiamoci, pochi giorni prima che cominci la rivoluzione d'ottobre, cioè che porterà la Russia a diventare l'Unione Sovietica. e quando, a seguito di queste numerose consacrazioni al cuore immacolato di Maria, alla fine sua Lucia disse il 29 di agosto del 1989, che era stata sì soddisfatta la richiesta della Madonna, il 9 novembre cadde il muro di Berlino e il 25 dicembre venne ammainata dal Cremlino. Arriviamo ai giorni nostri, ma Mario, scusa se ti invito alla sintesi. Ora il famoso terzo segreto, arrivo subito alla sintesi, il terzo segreto, che è il segreto quello più cruento, contiene delle immagini fortissime, apocalittiche, ed è sul terzo segreto che dobbiamo, secondo me, confrontare. Sono queste che stiamo vedendo, Mario? Sono queste le immagini fortissime? Potrebbero essere anche queste, potrebbero essere anche queste. Sì, sono certo che dentro questa vicenda, e per questo nel blocco precedente ho chiesto che Kirill e Papa Francesco facciano un atto immediato di convocazione di una conferenza di pace unificata, perché sono convinto che questa guerra verrà risolta solo sul piano religioso. Non è una guerra che si può comporre. Allora, Mario, devo dire... E io temo che sia proprio un problema di cultura, capisci? Alessandro, nel segreto di Fatima si parla. Il patriarca parla 150 milioni di cristiani ortodossi, eh? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E così è, hai ragione. E non è una voce che non viene ascoltata. No, appunto, purtroppo dice le cose sbagliate. Secondo Antonella Boralevi è un pericolo proprio quello. Dice le cose sbagliate. Alessandro... San Giovanni Paolo II, un grande teologo, come Ratzinger, ritengono che il terzo segreto sia avvenuto il 13 maggio dell'81, quando c'è stato l'attentato proprio a Giovanni Paolo II. Papa Ratzinger disse che c'era una parte del segreto che non era rivelata. È così, Adinolfi? Esatto. Bisogna sottolineare questa questione della connessione col tema della Russia. Il tema della Russia. È la Russia che è credentissima. Quello è il secondo segreto. Lasciatelo parlare, però. Lasciatelo parlare e poi intervenite. Il tema della chiesa russa che appoggia Hitler, chiamato Putin, nell'aggredire un paese democratico, quello che si chiama Ucraina. Noi dobbiamo cogliere quello che c'è scritto. Ma di che parlare, Alessandro? Sentiamo Mario. Dai, Adinolfi. Dobbiamo cogliere quello che c'è scritto come avvertimento. È la richiesta della regina della pace, perché la Madonna la chiamiamo regina della pace. E minaccia gli uomini, secondo te. La pace attraverso la consagrazione al cuore immacolato della Russia. Ma è avvenuta nell'84, tant'è che poi nell'86 cade il muro di Berlino. E Suor Lucia dice è avvenuto quello che è stato chiesto dalla Madonna. Ma una volta se ne devono inventare una nuova, se no di che campano? Per questo dico che è blasfema ed è truffaldina. Vai Mario. Sì ragazzi, però così non si può andare avanti. Cioè l'insulto continua le questioni delitto. Non è un insulto, siete voi che insultate la nostra intelligenza. Ogni volta c'è sempre un pezzettino segreto che vi tenete da parte. Lasciate il rispetto che si deve. Lasciate il rispetto che si deve. Fermi, fermi. Uno ciascuno, uno per volta. Uno per volta. Facciamo finire Adinolfi e abbiamo tempo. Chi rappresenta Adinolfi? Scusa, io voglio capire. Siccome parla col pluralia maiestatis, questa arroganza, incapacità e ignoranza di Adinolfi, chi rappresenta Adinolfi? Cioè, a nome di chi parla? Anche perché il teologo non era d'accordo. Allora, purtroppo abbiamo un problema nel collegamento sia con Adinolfi sia con padre Ariel. E' corosa. Tutti usano la Madonna per motivi blasfemi, politici e di altro interesse. Io è con noi e penso che questa guerra vada risolta dagli uomini in un modo corretto. Perché qui c'è un invasore e c'è un invaso. Adinolfi? Io penso che invece bisogna costruire quella bellissima occasione di incontro che già ci fu tra Francesco e Cirilla a Cuba qualche anno fa proprio per costruire un ragionamento ecumenico attorno alla pace. Infatti si è visto. Il risultato l'abbiamo visto. Il risultato l'abbiamo visto. Che può costruire... Ricordo che Papa Francesco... Però Mario, se Cirillo attacca l'Occidente... Papa Francesco è per l'Europa. Non lo è conto. Io chiedo che si costruiscano le condizioni di una pacificazione di un contesto pericolosissimo attraverso un percorso che è anche religioso perché se dimentichiamo Dio non comprendiamo la natura del conflitto. Il Dio di Francesco è per l'Europa. Il Dio di Cirillo è per la Russia. E dentro questo percorso che deve essere intelligente, non stupido, non guidato dalla propaganda, non tifoso, mai mazzonico, deve essere un percorso di pace. Per costruire queste condizioni Francesco e Cirillo possono costruire a Roma un tavolo di pace. Vediamo se questo sforzo congiunto ci sarà nei prossimi giorni. Neanche domenica prossima, quando torneremo insieme, prima serata, Rete 4. Vi aspetto domenica prossima. Restate sempre nella zona bianca. Buonanotte. Grazie. 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 Grazie.